Come abbiamo detto, non era riuscita a brillare in questa stagione, già nel giorno dell'andata si può dire che è fuori dal giro Scudetto. Questa è la rete del 3, per passare in vantaggio, qua vedete, scusate, raddoppiare, qua avete visto proprio il pubblico di Fede Bianconera esultare. Al terzo minuto della ripresa, Sampdoria per la verità pareggerà un risultato meritato da quel che si evince dalle immagini. Prima c'è stata una traversa e poi qui vediamo il bomber blu cerchiato Christine andare a pareggiare con un'azione in...